Ciao a tutti eccomi qua con un'altra guida alcuni giorni fa mi era stato chiesto dalle utenti del mio gruppo dove fossero finiti i disegni che compravano ed è successo anche a me quindi ho fatto diverse prove poi alla fine ho scoperto perché non me li riportava nella biblioteca come di solito faceva perché il nostro software ora si è aggiornato e ha messo questa icona qua non so se la vedete questa qua con il vostro account con cui vi siete poi registrati nel sito della silhouette quindi voi dovete entrare poi vi faccio vedere come per mettere in tutti i nostri disegni vedete in questa nuova cartella che in realtà poi sono quelli che sono qui che differenza c'è che in queste questi qui vengono salvate diciamo online possiamo scaricarle tutte le volte che vogliamo a differenza di prima che avevamo solo tre possibilità dopodiché non non ci dava più il file se lo perdevamo o quant'altro mentre qui ci dà la possibilità di scaricarlo tutte le volte che vogliamo ora vi faccio vedere come entrare scarichiamo un file dal dallo store di silhouette io prendo questo che è quello free ora faccio ad di carta me l'ha messo nel mio carrello vado nel carrello e faccio e qui metto la mia password e faccio invio ed ecco qua che mi dice che è stato scaricato se in realtà andiamo a vedere nella nostra libreria io non mi trovo quel disegno ora non vi sto a fare vedere ma non c'è sono sicura perché l'ho già fatto perché ce l'ha messo qua dentro però noi ora non lo vediamo se non facciamo il login quindi come faccio io vado in questa qua su in altro in questa scritta qua clicco e mi apre la finestra del cloud ora qui io metto la mia password faccio entra ecco qua vedete ora non ha più la croce rossa ma ha la spunta verde e qui troviamo tutte le nostre i nostri file facciamo recente e andiamo a vedere ecco qua vedete la nostra libreria il nostro disegno e questo è quanto io spero di essere stata di aiuto con questo video perché vedo che molte avevano difficoltà o si disperavano perché compravano i disegni e non li trovavano ed ecco svelato il mistero quindi vi ringrazio per aver visto questo video e ciao al prossimo ciao 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 ciao